Buonasera amici sportivi, benvenuti alla prima ufficiale delle Juventus Women che affrontano in amichevole il Servet. Eccolo, il fischio dell'arbitro comincia, il match comincia. Juventus Women Servet. Sulla destra, buona la sponda tentata da Girelli, ci prova subito la Juve a salire da destra. Toma, palla che rimane di sinistro in corsa e la Juve già in vantaggio dopo appena 25 secondi. Cristiana Girelli, tanto per cambiare, fa 1-0. Rivediamo tutto, cross in mezzo di Cantore, non di Tomaccio, ha provato Schatzer, rimedia così così la difesa Granata. Poi sbaglia il tocco Gaspar, occhio però la Juve che qui perde palla, gran parata di Cappelletti. Intervento su Mauron, qui Pelgander si è fatta scippare il pallone. Dall'altra parte c'è Lehmann, porta palla Cantore, alza la testa, vuole andare fino in fondo. L'appoggio, gira lì, paratona del portiere, poi ancora Cantore, c'è calcio d'angolo. E' scattata Bonansea, vista e servita, Bonansea riesce a passare davanti al portiere, Bonansea, Lehmann. Bonansea, primo timbro anche per Alicia Lehmann, che va a dire grazie a Barbara Bonansea. Era probabilmente la giocatrice più attesa in questo match, qui finta di corpo di Bonansea con la difesa che va a vuoto. Brava Lehmann a seguire, più una fuori. Bonansea, questa volta l'alza bene, esce malissimo Corpela. E arriva il gol per la Juve, questa volta lo segna Barbara Bonansea, 3-0 per Lehmann. Rivediamo qua l'uscita abbastanza fuori tempo di Corpela. Con Corpela che ha bucato completamente l'intervento. Qui però sbaglia Bonansea, allora prova a andare Servette con Simonson. Gran diagonale, 3-1, si rimette in carreggiata la squadra svizzera. Molto brava qua a Simonson. Doppio fisco dell'arbitro, 3-1 per Lehmann contro il Servette a Montjové. Solito schema con il trenino, aveva portato al gol Bonansea al 44esimo. Vediamo se ci sarà lo stesso esito. Dalla bandierina arriva il traversone, intuffo il colpo di testa. Provato dalla Juve, va là sul fondo tentativo di Asia Bragonzi. Prova adesso la Juventus a sfondare ancora. Bergamaschi può calciare, cerca questo pallonetto. Gol bellissimo di Bergamaschi. 4-1, cala il poker la Juventus dopo sei stagioni da capitano delle Rosso Nere. Qui ci fa vedere un pezzo di bravura. Stop e pallonetto, che è già molto piacevole con i quattro gol segnato. Juve subito all'attacco. Krumbiegel, destroforte, para. Corpela e poi Juve che chiede il calcio di rigore. L'arbitro indica il calcio d'angolo. Juve che è andata un passo a 5-1. Recupera Vansgard, che poi smista sulla sinistra per Bergamaschi. Secondo palo! Krumbiegel, l'appoggio facile, ma ottima. L'azione della Juve che gioca, si diverte e fa 5-1. Rivediamo tutto perché l'azione merita. Vansgard chiama a salire Bergamaschi. Cross preciso. Anche qui Corpela da rivedere. Del servetto, ancora giù Beccari. Palla che ora diventa buono per Rattufo. Vola Mustafik, brava a chiudere. Quindi Cocino. Lancio lungo. Ecco la Vansgard, può effettuare il pallonetto. Può fare 6-1. Mancava la sua firma, che arriva sui titoli di coda. Ancora bellissima l'azione della Juve. 6-1 per la Juve, che dilaga nel finale. Ma tanti applausi per Cocino, che disegna l'assist. E Vansgard attira a sé Corpela. Arriva la parola fine. 6-1 per le Juventus Women contro il Servette. Nella prima amichevole davanti ai tifosi. Una Juve che vince, convince. Tanti sorrisi, tanti gol.